Francesco Coven, amministratore delegato di Sedapta, anche in questo caso siamo al record storico di fatturato, 35 milioni, 350 persone, siete nati da realtà precedenti che esistevano già però come gruppo da assemblaggio di altre aziende, piccoli software, nel 2014. Voi invece non vi occupate di trasporto ma vi occupate dell'intera filiera, quindi della supply chain in senso lato. Tra i vostri progetti interessanti mi pare che ci sia proprio Brembo che tra l'altro è uno dei gruppi che mi ha colpito maggiormente perché quando voi entrate nello stabilimento di Brembo a Curno avete l'idea effettivamente dell'impatto, di che cosa significa intanto la massa dei dati, però avere anche la capacità di poterli utilizzare. Quando esce una pinza a freno voi avete un maxischermo a bordolinea su cui potete intanto visualizzare tutti i dati che servono di questa pinza, persino la temperatura di fusione che c'era stata in Michigan di quel prodotto. I segnali di warning arrivano quando servono, nel senso che hanno definito dei parametri, delle soglie, è inutile dare un dato se poi non ti serve, quindi in realtà la macchina alza la mano per dire c'è un problema dopo aver definito delle soglie di tolleranza, oltre le quali bisogna dire attenzione fermiamo l'impianto. Le punte di lavorazione, Brembo lavora con centinaia, migliaia di macchine in tutto il mondo di torni, frese, centri di lavoro e di asportazione, prima venivano tolte dopo un toto di ore a seconda di 10 ore, 15 ore, c'era un manuale e si toglieva la punta. Oggi ogni volta che la punta della macchina va a lavorare, registra il sistema in minuti di utilizzo e quando è arrivata al 5% di vita residua la pinza viene prelevata dal sistema e portata a fare manutenzione in fabbrica. Questo per dire alcune cose che stanno accadendo che effettivamente non si vedono poi se non entrando nelle fabbriche. Cosa fate voi per Brembo? Sì grazie. Noi effettivamente Brembo è uno dei nostri clienti più significativi per il quale abbiamo fornito inizialmente delle soluzioni di raccolta dati e sistema analytics sulle linee di produzione. In realtà stiamo realizzando uno dei progetti più significativi in un mondo completamente diverso dalla produzione o parzialmente a correre dalla produzione sui sistemi di pianificazione. Sedapta nasce da un'operazione nel 2015 conferimento di un laboratorio di prodotti che credo sia abbastanza conosciuto in Italia perché questa azienda di Savona che si chiama ancora Atomos Nicim ha realizzato a loro una serie di prodotti assolutamente innovativi per le soluzioni di raccolta dati e schedulazione della produzione poi ha completato la sua suite di prodotti con una serie di soluzioni per i processi cosiddetti di sales operation planning cioè sistemi di pianificazione, previsione della domanda, pianificazione della produzione della capacità finita e pianificazione della rete distributiva. Sedapta nasce da questa operazione di conferimento e devo dire senza forse essere eccessivo forse in questo momento la realtà italiana più interessante nell'ambito dei fornitori di soluzioni a supporto dei processi di supply chain. Brembo è un nostro cliente assolutamente importante, stiamo facendo un progetto di pianificazione della produzione molto insignificativo e stiamo notando un interesse dal punto di vista delle società soprattutto dimensionalmente importanti ma questo interesse sta scendendo anche in società dimensionalmente anche più ridotte quindi dopo il mercato di aziende di medio anche di piccole dimensioni l'interesse ha soluzioni per coprire i cosiddetti processi di supply chain più rivolti alla parte di pianificazione che ovviamente è un tema estremamente interessante che permette alle aziende di prevenire invece che curare quindi sistemi di previsione della domanda per fare delle previsioni della domanda il più possibile accurata che è la premessa per l'ottimizzare tutti i processi a seguire quindi la parte produttiva e la parte distributiva fino ad arrivare ai sistemi di pianificazione efficaci delle scorte di magazzino e di distributiva. Ecco ci sono aree in cui pianificare la produzione in maniera corretta e sapere esattamente come fare un'offerta diventa fondamentale, il settore più complicato da questo punto di vista è quello dei macchinari c'è un imprenditore che ho incontrato pochi giorni fa che mi ha spiegato che lui ha rifatto ha fatto un pezzo della palazzina, gli ha fatto lasciare dei vigili anche se i vigili dicevano che non si poteva fare uno spazio per andare sulla terrazza che doveva essere chiusa e mi spiegava che quella terrazza per lui era lo spazio per prendere le decisioni importanti, lui andava sopra in terrazza, guardava fuori, si metteva a pensare la decisione più importante che lui doveva prendere era che prezzo fare e che tempi dare di consegna al cliente per le macchine perché in questi casi scattano se tu non rispetti i tempi delle penali clamorose ecco allora voi avevate un cliente che vi ha posto questo problema, SACMI, come andate a finire? In realtà non è soltanto SACMI che è uno dei nostri clienti ma questo problema è assolutamente diffuso cioè avere degli strumenti a supporto della previsione della domanda e poi della pianificazione della produzione è fondamentale per garantire al cliente delle date di consegna certe perché è evidente che nel momento in cui io accetto un ordine e accetto anche una data di consegna per garantire quella data di consegna deve avere dei sistemi a supporto che permettano di validare quella data di consegna i nostri sistemi effettivamente, le nostre soluzioni sono finalizzati anche a questo quindi è un problema assolutamente diffuso, non è un problema soltanto di costruttori di macchine che ovviamente è un problema rilevante per questi costruttori di macchine italiane che negli ultimi anni sono usciti in maniera molto brillante da una crisi molto profonda effettivamente la loro supply chain è complicata in maniera estremamente importante quindi molti di questi erano aziende che chiudevano il cerchio su loro stessi nella loro zona sia dal punto di vista della produzione sia dal punto di vista della fornitura dei prodotti aziende soprattutto in questa regione straordinaria e alcuni oltre a SACMI ci sono aziende importantissime come IMA quindi costruttori di macchine che sono cresciute in maniera molto significativa hanno investito in maniera significativa e a questo punto coprono e forniscono soluzioni assolutamente articolate non soltanto in Italia ma in altri paesi è evidente che la loro supply chain sia complicata in maniera molto forte e da qui la necessità probabilmente, anzi certamente, di sistemi a supporto significativi su questi processi tra l'altro si citava prima nell'intervento introduttivo il concetto di Made in Italy quanto sia importante poi avere aziende strutturate, forti e radicate in Italia qui abbiamo l'altro lato della barricata non soltanto il software è importante che sia qua un'azienda che dà questi servizi perché è importante avere le multinazionali, perché è importante avere grandi aziende perché se la testa di Brembo fosse in un altro paese forse il softwareista di riferimento per la supply chain magari se lo scelgono in Cina piuttosto che negli Stati Uniti così come Sacmi, se la testa non è qua a Bologna magari fanno anche altre scelte ecco mi pare di capire che però qui non siamo nell'ambito dello standard cioè ogni azienda, ogni cliente ha un percorso ad hoc che poi bisogna fargli un abito su misura sostanzialmente per la supply chain in parte è assolutamente così, anche se questi processi supply chain in quota parte si cerca ovviamente di standardizzarli ovviamente ogni azienda ritiene di produrre meglio rispetto ai propri concorrenti ad avere supply chain radicalmente differenti in parte è vero, in parte non è così quindi a supporto di questi processi è assolutamente possibile fornire delle soluzioni anche economicamente percorribili perché fino a qualche anno fa o qualche anno fa queste soluzioni l'investimento per queste soluzioni sono investimenti importanti e da qua forse la possibilità a questo punto da parte di aziende che hanno la necessità di avere dei sistemi a supporto di questi processi di dotarsi di soluzioni assolutamente molto più efficaci rispetto alle classiche soluzioni che venivano adottate fino a ieri il nostro concorrente tradizionale in questo mondo è la classica tabella Excel con cui noi facevamo un po' di pianificazione della produzione previsione della domanda grazie a tutti